Ciao a tutti, sono Genni95 e saremo con questo nuovo episodio di 2Kiden2, verità naturalmente, e oggi dobbiamo affrontare il boss, è già la terza volta che ci ho provato, non ci riesco a farlo, e vabbè, proviamoci un'altra volta. Voi non lo vedete perché non ve lo faccio vedere, perché lo taglio, però se... Ho problemi con questo boss, se non si è visto. Magari ho visto che il boss lo tengo per la fine, come se fosse il boss di fine del gioco. Alla prossima. Ok, andiamo a fare questo boss Sì, ho capito Ok, rosso, si vai addo un 되어 Sopoli cio 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 ahia ahia miami ma 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 ok ok magari ci potrei provare con l'arco sai hmm ok 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 Grazie a tutti. 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 Oh... Grazie a tutti. Oh... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh... 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 No... Oh... 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 Vieni qua... Dai... Oh... 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 Oh.... Oh... 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 un altro, che si è avuto un cuore questa è la tovia e un altro Ok Ah vabbè vabbè Ho messo quegli altri Mendi questo Aia però Aia 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 Aia